Buonasera e benvenuti a questo che è il quarto degli incontri dell'Accademia degli Intronati organizzato per il settimo centenario della morte di Dante Alighieri. Come sempre ci troviamo qui nell'Aulamagna dell'Accademia dei Fisiocritici che collabora a questi incontri e gentilmente ci ospita e ringraziamo anche il Ministero della Cultura e la Banca Centro Toscana Umbria per i loro contributi che hanno permesso di organizzare questi incontri. La settimana passata chi ci ha seguito ha visto che Natascia Tonelli ha presentato la figura di Francesca da Rimini così come Dante la vedeva come una intellettuale raffinata e citava Virgilio, citava le deconsolazioni filosofie di Boezio mentre in realtà della figura storica di Francesca non si sa praticamente niente e forse anche lo stesso Dante non conosceva molto. Stasera invece il professor Cicuto che ringraziamo per aver aderito alla nostra richiesta di un suo intervento qualificante per i nostri incontri ci parla di un personaggio storicamente ben conosciuto, Brunetto Latini e ben conosciuto anche da Dante in quanto è stato il suo maestro e Dante stesso lo tratta con una dovuta deferenza. Comunque lascio la parola a Roberto Balzanti che ci introdurrà alla conferenza. Grazie. Grazie Enzo. Io più che introdurre voglio semplicemente ringraziare il cuore Marcello Cicuto per aver accettato il nostro invito. Abbiamo organizzato questa serie di conversazioni con personalità diciamo, con docenti che sicuramente assicurano un livello molto alto. Marcello Cicuto è presidente della società dantesca addirittura e i suoi interessi come ben conosciamo si sono molto incentrati su Dante oltre che su Petrarca, su Boccaccio sulle fasi iniziali della nostra storia della letteratura, in modo particolare soffermandosi sul rapporto tra figuratività, tra cultura figurativa e cultura scritta e scrittura, tra scrittura e figurazione diciamo. Infatti, il professor Cicuto è anche coautore di un dispense che ora sono in distribuzione nell'etico di un grande interesse che antologizzano molte delle illustrazioni, tra piccolette, diciamo delle figurazioni, delle rappresentazioni che Dante ha suggerito a un'infinità di autori dai suoi contemporanei o quasi contemporanei, ai giorni nostri, a riprovare il fatto che il poema, e non solo il poema, ma il poema in modo, devo dire, decisivo, è anche una fonte straordinaria, metafore di allegorie, di forza immaginativa, che non può non tradursi anche appunto in visibilità. del resto, Cicuto, ho qui con me un libro che amo moltissimo, è anche autore di studi che mettono in rilievo questo rapporto in autori contemporanei. In questo caso, Rifare Poussin da Pré-Nature è uno studio bellissimo su Montale e l'arte del nostro tempo, ma anche su autori a noi cari, che abbiamo conosciuto di persona, come Romano Bilenchi, Marcello Cicuto ha scritto pagine puntuali e veramente fondamentali per connettere, o comunque per mettere in relazione, diciamo, non in maniera meccanica, si intende, l'universo fantastico, immaginativo dell'autore con la sua scrittura. Ma stasera tradisce questa sua preferenza, credo, questa sua predilezione, che abbiamo apprezzato anche non molti anni fa, a Colle, in una bellissima mostra dedicata a Saprià, e invece ci parlerà, quindi Centro dell'Inferno, dell'incontro sorprendente per Dante, con quell'attacco stupendo, con un maestro come Seb Brunetto Latini, personaggio chiave della cultura contemporanea a Dante, e dunque ascolteremo molto con Lettieri la conversazione di Marcello Cicuto, che è ordinario di Storia della letteratura italiana a Pisa, e dirige molte altre riviste, che ora non sto a citare, e ci mettiamo in ascolto con l'attenzione dovuta e con ancora una nostra calorosa espressione di gratitudine. Grazie Marcello. Grazie a voi, grazie a Roberto, all'Accademia, a tutti coloro che si sono adoperati generosamente per la realizzazione di questo ciclo, e anche per far arrivare la mia voce modesta in questa circostanza, circostanza che mi piace usare, ecco, sfruttare per poter dire di un personaggio come Brunetto Latini, protagonista, come sapete, di uno dei canti centrali dell'Inferno, del quindicesimo dell'Inferno, personaggio che dal punto di vista della storia e della storia e della cultura, anche in anni recenti, ha acquisito una fisionomia più precisa che in passato, e anche una sua collocazione, anche questa culturale, ben definita nell'ottica non soltanto della commedia, ma sull'orizzonte, diciamo, non solo nell'ottica della commedia, ma sull'orizzonte della cultura letteraria tra fine duecento e Dante, tra fine duecento e gli inizi del trecento e l'avvio della commedia, e quindi della sua collocazione anche storiografica in qualche modo. Ora, il canto è stato, il canto quindicesimo dell'Inferno è stato oggetto di moltissime letture, come è ovvio dire, e ha generato più problemi di quanti non ne abbia risolti, perché effettivamente è un canto abbastanza ambiguo. Come è ambiguo e forse irrisolto ancora il nucleo cettuale che lo regge, questa idea, no, di un peccato di sodomia a cui viene condannato questo prestigioso maestro, grande amico e sodale di Dante, per cui, insomma, questo ha generato reazioni, pensieri, interpretazioni, e devo dire che, insomma, è un po' difficile pensare che si sia arrivati alla certezza interpretativa su questo, però qualche elemento voglio dare in questa circostanza, me ne sono occupato negli ultimi decenni, negli ultimi due decenni, e effettivamente un po' di chiarezza forse si riesce ad avere, grazie all'apporto di dati studiosi, naturalmente. Ora, il canto ha un inizio assai significativo, spero che abbiate sott'occhio il testo della commedia, in qualsiasi edizione essa sia, e dunque l'inizio è significativo perché ha, come spesso accade in Dante, nella commedia, un valore, come si usa dire tecnicamente, modellizzante. Cioè, impone un'idea intorno alla quale poi si organizza il discorso dantesco, dà un po' il tono dell'argomentare e anche qualche indicazione di percorso. Lo sapete bene, si inizia così quasi exabrupto, con una similitudine potente, quella delle dighe costruite dai fiamminghi tra Vissant e Bruges, e le altre analoghe che costruiscono i padovani sul Brenta per poter impedire le alluvioni o, nel caso dei fiamminghi, per poter impedire le maree che arrivano. Ma perché proprio questa immagine, proprio questa similitudine? Beh, una ragione precisa ci sarebbe. Dante, come vi ho detto spesso, inizia canti con immagini o con parole che, a ben vedere poi, attraverso l'orizzonte memoriale dell'intero canto, si capisce che sono state profondamente meditate. D'altronde, lo sapete benissimo, non c'è nemmeno una sillaba casuale nella commedia. Tutto è profondamente meditato e tutto ha più sensi. Quindi figurarsi se una costruzione di questo genere è stata messa lì quasi a caso, giusto per riempitivo, per poter cominciare il canto. Tutt'altro, tutt'altro. Se pensiamo a altri inizi di canto, che sono l'inizio del ventiduesimo, con le giostre degli aretini, eccetera, che hanno un effetto poi sulla discussione, sul centro, sul nucleo argomentativo del canto, oppure l'inizio del ventiquattresimo con il villanello, che cerca di capire come va il tempo. Qui Dante parla delle maree. In antico questo fenomeno era considerato anche quasi simbolicamente come l'esempio massimo della imprevedibilità, della instabilità, della mutevolezza che riguarda alcune cose del cosmo, alcuni eventi. nel cosmo. In questo caso le maree legate, come sapete, alle fasi lunari, rappresentavano, secondo la cosmografia, ma anche la fisica medievale, proprio un fenomeno logicamente poco contenibile, sfuggente, appunto, il massimo della instabilità, della difficoltà a mettere assieme, a far funzionare, logicamente o scientificamente, se volete, un qualche cosa, un fenomeno. E su questa linea vediamo che si avvia già, si avvia subito il canto, si avvia subito il canto, che Dante abbandona questa immagine, l'ha messa lì, giusto per dare il là al suo pensiero, alla sua parola, e poi comincia a descrivere i personaggi che gli si fanno incontro. E come li descrive, o meglio, come li presenta? Li presenta usando una quantità notevole di verba videndi, di parole legate al vedere, al guardare, dunque anche al capire, al comprendere. Verso 14 Io non avrei visto dov'era. Verso 18 Ci riguardava come suol da sera guardare uno altro sotto nuova luna. e poi verso 20 E sì, ver noi aguzzavan le ciglia come il vecchio Sartor fa nella cruna. Ma poi anche ai versi, al verso 26 e poi più avanti nel verso 98 ci sono questi verbi della visione, del vedere, del guardare. Ma servono per un effetto contrario a quello che si possa immaginare. Questi personaggi, ci dice Dante, vedono male, non riescono a vedere bene quello che accade al loro intorno. Aguzzano le ciglia, cioè strizzano gli occhi per poter vedere meglio come fa, eh, come fa, come fanno quelle persone che cercano di riconoscere qualcuno con la luna nuova, nella piena oscurità. Cercate di avere in mente che cosa doveva essere l'oscurità nel Medioevo, senza luce elettrica, senza nessun tipo di luce. Credo che noi non abbiamo neanche contezza di quello che potevano essere le tenebre nel Medioevo. Dante e Virgilio incontrano dunque, eh, verso 16, un gruppo di anime che ci guardava con particolare forza per poter capire, per poterci riconoscere, per poterci raffigurare. e però appunto strizzano gli occhi per poter affinare la vista come fa appunto il sarto quando deve infilare l'ago nella coluna. Anche questa è un'immagine modellizzante, perché vedremo che qui a Dante interessa far capire che questi personaggi non hanno visto bene il mondo, la realtà, il loro destino, la loro esistenza, eh, e analogamente, eh, si comportano alla stessa maniera anche qui a questo punto per via, a questo punto per via metaforica. D'altronde anche forse in questo aguzzare le ciglia, questo insistere di Dante sul, sulla loro intenzionalità a vedere, eh, vedremo potrà avere eh, così un senso contrastivo eh, se spostato sul piano concettuale, vale a dire eh, qui Dante prende, prenderà in giro, cioè più avanti, prenderà in giro l'acutezza intellettuale di questi personaggi, l'inutile sottiglianza, eh, del loro intelletto. eh, come, eh, un intelletto che è come la loro vista, incapace di un obiettivo vero, autentico, reale e conforme a una, a certe idee. Poi vedete, adocchiato da cotal famiglia, eh, fui conosciuto da uno. Eh, anche qui, a forza di scrutare, alla fine uno di questi personaggi mi prese per l'olembo e gridò qual maraviglia. È straordinario come Dante anche nelle espressioni più neutre come questa. Uno mi riconobbe, eh, mi prese per il lembo della veste perché naturalmente stava sul ciglione, eh, sul ciglio sottostante, quindi lo tira per la veste e dice qual maraviglia, che cosa straordinaria. E qui, diciamo, l'interprete potrebbe passare oltre. Ma forse è meglio fermarsi un attimo perché non solo secondo me, secondo anche alcuni interpreti, già qui Dante con questa espressione apparentemente generica ci presenta una caratteristica del personaggio, a norma di Aristotele, dell'Aristotele il quale sosteneva che la filosofia nasce dalla meraviglia. Chi ha, come alcuni contemporanei di Dante, una enciclopedia culturale ben precisa dentro, coglie questo dettaglio. Avrebbe potuto dire, avrebbe potuto dire Brunetto, ma Dante, oppure guarda chi c'è. No, dice, che meraviglia. Ora, al di là che può essere un'interpretazione anche troppo sottile, no, questa, indubbiamente, però è anche vero che al di sotto di questa effettiva sottigliezza c'è un altro strato di significati ancora. È l'unico momento in cui, lo capiremo solo dopo, in cui Brunetto prende atto di una cosa straordinaria, cioè del viaggio oltremondano di un essere umano, nella fattispecie di Dante. Prende atto del disegno providenziale del mondo che ha deciso il viaggio di Dante, che ha garantito con il dono della grazia, però è limitato a questa espressione così, che meraviglia, mamma mia, ma che succede, che cosa straordinaria sta dicendo Brunetto. Che si introduca una discussione di tipo intellettuale legata, cioè, a un dialogo fra intellettuali, fra uomini di cultura, ce lo dice, è il fatto, ce lo dicono i versi immediatamente successivi. a questo punto l'elemento visivo passa a Dante, ficcai gli occhi per lo cotto aspetto, andai oltre l'apparenza sua, era tutto bruciacchiato, perché qui siamo nel sabbione dei violenti, e quindi sono dannati da quella pioggia di fuoco che gli brucia. E dice, il viso, così, tutto bruciato, combusto, non impedì la conoscenza sua al mio intelletto. dice Dante, ho spostato subito la mia attenzione sul piano dei valori intellettuali, e di questi parlerò, caro lettore. Non badate nemmeno al fatto che, dice, chinando la mano alla sua faccia, per poterlo toccare, raffigurare, come fanno gli scultori con le sculture, come fanno i ceichi quando vogliono riconoscere una fisionomia. Anche qui bisogna stare un pochettino attenti alla tradizione del testo, eccetera, per il verso 29, chinando la mano alla sua faccia, in realtà esiste una lezione un pochettino diversa, conservata da numerosi manoscritti, che dice, che rende il verso così, chinando la mia alla sua faccia, chinando la mia alla sua faccia, anche perché effettivamente questa immagine di Dante che mette giù la mano per toccare il viso di Brunetto, insomma, è un po' imbarazzante, non è così calzante con questi personaggi di altissimo profilo. Invece la lezione, chinando la mia alla sua faccia, ci dice già questo predisporsi di Dante a un dialogo da pari a pari con Brunetto e anche a una sua certa qual ammirazione un un identificarsi almeno temporaneo con il suo vecchio maestro. Misi la mia faccia davanti alla sua e dice ma come la domanda è ma siete qui in questo luogo Sir Brunetto lo lo identifica come notaio come membro di quel rappresentante di quella di quel gruppo di quel ceto di notai che tanto aveva dato alla cultura e alla letteratura di tra fine 200 e inizi 300 dunque avviene così questo rapido riconoscimento e in queste poche battute già abbiamo dei segnali che ci avviano ci stradano verso un sentiero di valori alti ma c'è di più intanto Brunetto chiama Dante figlio al mio al verso 31 stabilisce un rapporto di da padre a figlio nei confronti di Dante e già questo vuol dire molte cose vuol dire una certa vuol dire quella partecipazione al significato storico di un personaggio che noi abbiamo già visto operante anche nel canto di Paolo e Francesca nel quinto sempre dell'inferno di quella condivisione di quella condivisione dell'amore cortese eccetera però Brunetto che si non sa che si alle regole già qui sembra disobbedire alle regole rango un po' indietro torno un po' indietro al di di posto la legge rapidamente altrimenti chi si ferma è costretto a rimanere lì cento anni eccetera quello Brunetto sembra non voler rispettare questa regola tu lasciali andare gli altri io sto un po' di parlare preoccupare da subito il problema del tempo è un problema temporale perché spiega dice guarda figlio ripete figlio ripete ancora una volta al verso trenta o figlio chi si ferma qui quelli di questo gruppo se uno si ferma poi per cento anni è costretto a rimanere qui senza potersi difendere dalla pioggia di fuoco quando il fuoco lo colpisce e quindi una punizione forse c'è se non è l'importa io intanto voglio parlare con te lascia pure che gli altri vadano io intanto rallento un po' il mio andare dice perciò vai oltre io ti seguo ti verrò dopo po' la mia questo che altra preoccupazione temporale va piangendo i suoi eterni danni ciò ci sono le colme che hanno in che hanno che il canto è costruito sul concetto di eternità di eternità ma un'eternità ben diversa da quella divina per intenderci quella che regge l'universo anzi vedremo che questi eterni danni pianti da questi dannati sono proprio quelli che verranno presentati nel canto successivo il sedicesimo con i politici fiorentini i quali avevano pervertito i valori del vivere civile del comune perfetto per loro interessi personali e quindi avevano come dire soddisfatto questo loro questa loro idea di eternità questa loro idea di eternità un'eternità però limitata al loro vivere quotidiano di uomini politici del loro tempo Dante si pone a capo chino qui al verso 44 tenia comuom che reverente vada questa è un'espressione che Dante prende da Brunetto Latina dal tesoretto di Brunetto Latina sono i versi 186 90 del tesoretto quando lo scolare che poi forse è Brunetto stesso dice e io in tal corrotto pensando a capochino perdei il gran cammino e temi alla traversa ad una selva diversa stare a capochino è un'immagine tradizionale canonica nella poesia di fine duecento rappresenta la condizione dell'uomo preso dal peccato gravato dal peccato non riesce ad alzare lo sguardo verso il cielo chi sta a capochino è l'uomo legato nella condizione peccaminosa della condizione di peccato e riprende il chinando la mano che abbiamo visto al verso 29 quando si trattava di riconoscere Brunetto anche qui io sto a capochino segno di reverenza per carità di rispetto nei confronti del vecchio maestro ma anche segno della mia condizione di uomo gravato ancora dal peccato e forse dallo stesso peccato dalla stessa presunzione che ha avuto il mio maestro e che ha rappresentato nella sua opera nel tesoretto vi faccio notare un'altra cosa legata ai versi 36 al verso 36 e al verso 48 la posizione la posizione un po' una posizione minore di Virgilio in questa in questa situazione Dante dice io vi prego se volete io mi fermo qui con voi se piace a costui che vo seco se naturalmente mi dà l'autorizzazione questo personaggio che mi accompagna cioè Virgilio la subida Dante quindi sa che può avere un rapporto con Brunetto può parlare con Brunetto solo se è autorizzato dall'autorità in questo caso Virgilio autorità mediata mediante quella divina se è previsto dal suo viaggio Brunetto come dice ma chi è questo che mostra il cammino con chi te la fai chi è che ti accompagna e è una domanda che resta lì a Brunetto o meglio resta lì per il momento a Brunetto interessa sapere ma c'è un'altra persona con te non fa distinzione fra il corpo reale di Dante e l'anima evanescente ma che pure ha preso forma di Virgilio dice ma chi è che ti accompagna vuole sapere chi fa il cammino insieme a Dante questo cammino insieme a Dante Dante sposta subito la risposta sul piano che interessa a lui dice io quando mi sono smarrito nella selva prima che l'età mia fosse piena altra preoccupazione temporale mi sono smarrito e mi riporto mi riporto a K mi riporto a K oppure alla fine l'obiettivo di un viaggio per questa strada per questa via Dante sta dicendo questa è la guida che riporterà la mia anima a Dio che è poi l'origine di tutto che è l'origine del mio viaggio che è il Dante che è un po' diverso da quello che intendi caro Brunetto però non parliamo di questo immediatamente dopo Brunetto comincia un discorso una profezia eccetera eccetera comincia un discorso e è tutto perfettamente registrato sulle corde della cultura di Brunetto della cultura fisica non metafisica di interprete razionale materialista del mondo ciò in cui consiste il suo peccato e poi lo spiegherai infatti dice se tu stella non puoi fallire a glorioso porto se così mi sono accorto nella vita bella durante la mia vita terrena e se io non fossi per tempo morto cioè se non fossi morto prematuramente nel vedere il cielo così benevolo nei tuoi confronti avrei continuato ad aiutarti alla tua opera avrei dato conforto ma come esprime questi concetti Brunetto ricorrendo alla cultura astrologica non dice se tu segui il cammino di Dio se segui la tua imitatio Cristi allora raggiungerai la virtù e la perfezione del cristiano no dice se segui quello che hanno stabilito gli astri se tu segui la tua stella certo conquisterai la gloria non conquisterai la uno stato divino beato perfetto no raggiungerai la fama il glorioso porto se ho ben capito dice Brunetto nella tua nella tua vita durante il corso della tua vita terrena e poi di nuovo attenzione ai dati temporali se io non fossi morto prematuramente nel vedere il cielo le stelle la volta celeste benevola nei tuoi confronti non dici nel vedere Dio così benevolo verso di te io ho visto che il mondo il mondo la vita mondana era ben orientata avrebbe diretto il tuo destino verso è una superiorità verso la conquista della gloria della fama terrena insomma non c'è non c'è non c'è alcuna declinazione teologica in questa premessa del suo dire e continua su questo registro che è quello di un di una sorta di determinismo astrale da arti liberali del medioevo non certo da visione providenziale del mondo dove tutto è iscritto in un disegno perfetto di orientamento verso Dio anche più avanti dice la tua fortuna tanto onor ti serva che l'una parte e l'altra avranno fame di te ma allungi fia dal becco l'erba eccetera eccetera la tua fortuna il fato ti riserva tanto onore che poi gli altri saranno costretti a desiderarti ma non riusciano da loro parte e usa in questi dire non solo che ripete ancora una volta la parola fama no presenta per la prima volta la parola fama al verso 67 vecchia fama nel mondo li chiama orbi prima ha parlato di glorioso porto eccetera dissemina alcuni segnali per farci capire di che cosa sta parlando e usa un linguaggio che è tipicamente brunettiano ricorderete senza altro queste queste immagini diciamo di questa terminologia botanica perfettamente in linea con la rappresentazione come dire mondana di questo personaggio tra li lazzi sorbi si disconviene fruttare il dolce fico eccetera eccetera che sono immagini fra l'altro desundente dal corpo che è l'enciclopia scritta in francese da Bruno e poi c'è questa immagine delle bestie fiesolane che non devono toccare la pianta in cui rivive la sementa santa via dicendo sembra quasi un biologo sembra quasi appunto uno scienziato che usa un tecnico molto preciso questo scienziato è il che ha determinato che non solo parla di questa circostanza ma usa il suo per parlare della sua situazione e di quello che è il destino di Dante Dante che richiama a questo punto al verso 81 un'espressione decisiva dell'umana natura diceva fosse di peso da me voi ancora non sareste stato allontanato dall'umana natura perché io ho in mente voi eccetera l'umana natura secondo Alano di Lille e il suo anticlaudianus che è una delle fonti di questo episodio utilizzato già da Brunetto è la natura delegata a Dio a essere regina del mondo non c'è alcuna allegoria la natura è quella entità la regina mundane regionis comune e Dio perfetto questa natura in realtà Brunetto l'ha usata interpretata non da un punto di vista teologico ma da un punto di vista fisico e materialistico allora questo è una delle chiare interpretative del canto ho dentro di dice Dante la vostra cara immagine paterna di voi quando nel mondo nel mondo ad ora ad ora altro riferimento temporale mi insegnavate come l'uomo s'etterla e quanto io l'abbia e in quanto mi piace questa voglio che si ma testi con l'inguale tutto il tempo che io vivo impegnativissima dichiarazione e vera chiave rivolta chiave interpretativa dell'intero canto intanto ci dice dell'insegnamento ad ora ad ora di tanto in tanto un insegnamento socratico fatto su dialoghi su uno scambio intellettuale su un passeggiare e non certo attraverso lezioni cattedratiche ma è fondamentale l'espressione del verso 85 mi insegnavate come l'uomo s'etterla questo è l'insegnamento di Brunel che cosa vuol dire è un'espressione quasi eretica se non la si sa prendere per il verso giusto e o l'uomo diventare eterno se diventa un santo se va l'uomo non lo può essere perché ha il fine ultimo cioè la morte che gli impedisce l'eternità e lo confina e lo confina all'interno del tempo umano del tempo limitato del buono perché Brunetto avrebbe insegnato a Dante come fa l'uomo diventare eterno come fa l'uomo diventare eterno quando fa una strada solana riconoscere la sua eternità nella vita limitata dell'uomo nella vita reale che ha un inizio e ha una fine fidandosi esclusivamente della propria forza delle proprie capacità del proprio intelletto della propria autonomia rispetto a qualsiasi altro disegno providenziale disegno metafisico o teologico l'uomo diventa eterno attraverso l'esercizio della sua virtù di uomo attraverso la cultura potremmo dire facendosi uomo che interpreta il mondo e gode di esso questa è la proposta rivoluzionaria quasi illuministica di Brunetto che Dante riconosce qui voi cercavate di insegnarmi vi siete impegnato ad insegnarmi come può l'uomo diventare eterno superare il tempo ma non appunto secondo dotazioni sovrumane ma anzi tipicamente umane esclusivamente umane lo vedremo questo è l'insegnamento che c'è nella parte conclusiva del tesoro dell'enciclopedia scritta da Brunetto là dove fa vedere Brunetto come le virtù di impegno civile politico e storico nel mondo sono il fine unico dell'uomo sono il fine storico dell'uomo danno all'uomo una dignità superiore a quella reale ma non c'è altro non mi interessa altro dice Brunetto e vedete Dante è molto accorto è molto attento nel dire che io ho capito il vostro insegnamento e questo voglio che si manifesti in che modo per tutta la mia vita attraverso la mia poesia lingua si scema per resti il vostro insegnamento e infatti noi lo sappiamo che parte da questa prospettiva la conoscenza del mondo l'attraversamento del male l'attraversamento del tempo per arrivare poi fuori del tempo un'altra prospettiva e infatti pone dei paletti comunque a questo ricordamento Dante e dice quello che voi mi raccontate mi anticipate sul mio corso su quello che mi avverrà in futuro lo scrivo e lo conservo poi per poterlo confrontare beh con altri insegnamenti con un altro testo a donna che saprà se a lei arrivo lo confronterà poi con Beatrice ovviamente e con ben altro libro il libro dell'universo divino e qui c'è appunto un riferimento abbastanza preciso al prosieguo della commena al prosieguo della commena e Dante è interessante che questi i versi sono interessanti che vanno dal 91 al 96 perché Dante si registra sul dire di Brunetto e usa due volte la parola fortuna eh quella fortuna che per Dante l'intelligenza angelica rientra perfettamente nel dogma cristiano per Brunetto è un'entità eh governata da un caso cieco la qualità la qualità Dante dice per carità io sono pronto ad affrontare la fortuna sono pronto ad affrontare il caso qualunque questo ho già sentito profezie di questo tipo eh verso 94 non è nuova agli orecchi miei tal arra eh questa caparra eh questo anticipo questa anticipazione non è nuova l'ho già sentita infatti nel sesto canto sappiamo aveva già avuto un'altra profezia perciò dice e anche qui si riregistra sul dire di Brunetto perciò la fortuna gira giri pure la sua ruota come vuole non mi interessa così come il villano eh usa la sua falce la marra eccetera la zappa eccetera eccetera che immagine porta qui Dante eh l'immagine del villano con la sua marra è il contadino vecchio e stanco con la vanga o il piccone eh o quello che è che è l'immagine di Saturno l'imma l'iconografia antichissima e tradizionalissima di Saturno e Saturno cos'è? è il simbolo del tempo Dante sta dicendo sono pronto a vivere nel tempo ad affrontare ciò che il tempo mi prepara però tanto io poi queste cose le confronterò con l'altro libro le confronterò con quell'altro destino che avrò più avanti e riceve il sigillo da Virgilio eh al verso eh novantanove bene ascolta chi la nota questa profezia eh se qualcuno eh o meglio le parole che hai detto caro Dante eh eh sono parole importanti che possono valere per tutti chi le ascolta bene sicuramente eh ne avrà un vantaggio eh ne avrà un vantaggio anche se alcuni interpretano diversamente ma non è il momento non è il momento di dire non è il momento di dire questo ora eh vorrei che concentraste per un attimo l'attenzione sul verso 94 e su quella parola arra perché poi ci torniamo a chiusura del canto eh mi avvio appunto a eh a dire delle ultime cose eh relative al canto stesso a questo punto eh Dante vuole conoscere i compagni eh gli altri sodomiti che si trovano eh qui allora però prima prima vi dico allora eh vi do un po' eh la chiave interpretativa un ovvio di questo peccato di Brunetto eh questo peccato contro natura per antonomasia come veniva definito di Brunetto noi sappiamo che non ci sono eh documentazioni esatte precise eh sull'omosessualità la presunta una presunta omosessualità di Brunetto latini nella storia come fatto storico ehm né altre documentazioni che possiamo utilizzare in questa direzione tant'è che tutti gli interpreti presto si sono resi conto che bisognava dare un'interpretazione metaforica eh un pochettino eh deviante rispetto al senso letterale per cui hanno detto no ma qui il peccato di Brunetto eh consiste nel fatto che ha usato il francese e non la lingua materna eh ha fatto violenza alla natura in questo modo ha usato il francese per scrivere il tresor e non invece il volgare eh secondo altri secondo altri eh diciamo eh non avrebbe riconosciuto la supremazia politica dell'impero cioè insomma anche interpretazioni un po' arsico-golage eh il peccato di Brunetto è effettivamente un peccato contro natura ma in senso metaforico cioè è un peccato contro la natura contro la natura con la N maiuscola cioè contro l'ordine divino del cosmo l'ordine divino del cosmo la sua perversione consiste nel fatto nel non aver riconosciuto che è una legge divina che tiene tutto assieme e di aver puntato la sua attenzione al tempo umano al vivere civile politico quotidiano a valori minimi quelli mi interessano dice Brunetto gli altri anche il tuo destino hanno stabilito le stelle vedrai queste bestie feriosolane cercheranno di divorarti qualcuno vorrà portarti dalla sua parma lascia perdere tanto vedrai che poi alla fine tu raggiungerai la gloria il peccato di Brunetto il peccato di Sodomia contro la natura divina del mondo perché ha riconosciuto una natura prevalente esclusivamente fisica materiale razionale fondata sulle forze dell'uomo sulle virtù individuali personali dell'uomo a questo si uniscono altri personaggi i personaggi che poi vengono menzionati qui che tanto hanno dato da fare ai lettori agli interpreti che cercavano di associare al dato di Brunetto anche questi personaggi storici come Prisciano come il grande grammatico del VI secolo dopo Cristo Prisciano che effettivamente fu un campione al tempo dell'imperatore Giuliano dei grammatici dei retori legati al potere politico e sappiamo che già per Alano di Lille che torna ancora qui fu Prisciano un chierico apostata lettore impertinente delle sacre scritture e che si sarebbe prostituito diciamo così per semplice desiderio di fama terrena di gloria umana di gloria umana francesco d'accorsio ben noto giurista sarebbe stato in realtà poi più amante dei iberi e delle cretalia che non dell'esempio dei padri eh non l'esempio del diritto canonico e via dicendo e poi naturalmente è anche il Andrea De Mozzi il vescovo Andrea De Mozzi trasferito da Firenze a Vicenza che viene presentato ironicamente sarcasticamente come colui che fu trasferito mandato via dal da Firenze dall'Arno dal servo dei servi dal papa con questa formula così canonica che in realtà non significa nulla soprattutto se riferita come vuole Dante a certi padri dunque chiusura del canto e chiusura a questo punto anche del mio discorso eh non senza che vi dia un'informazione in più forse anche un po' nuova rispetto alla critica ultima che è stata fatta su questo canto e su questo personaggio anche qui in chiusura a partire dal verso 115 Brunetto è preoccupato di che cosa del tempo eh dice di più direi ma il venire e il sermone più lungo essere non può perché vedo sorgere un nuovo fumo dal sabbione dei violenti dal sabbione infuocato Brunetto non dice mi riunisco alla masnada agli altri peccatori non dice mi riunisco agli altri peccatori perché se no Dio si arrabbia e mi punisce perché la legge dell'inferno mi costringe a stare qui 200 anni sotto il fuoco non dice questo a lui non gli importa della legge superiore infernale con questi altri vedo gente viene con la qual esso non deggio arriva un altro gruppo di dannati che sono pur sempre dei sodomiti con i quali io non mi voglio confondere è ancora legato alla sua esperienza terrena perché questi personaggi che poi compaiono come protagonisti nel canto successivo sono proprio quei politici che avevano mal interpretato il suo pensiero e il suo insegnamento di equilibrio civile di realizzazione della virtù storica del comune e via dicendo io con questi non voglio avere nulla a che fare me ne vado anzi guarda sai che ti dico caro Dante mi dice Brunetto ti raccomando il mio tesoro in cui io vivo ancora tutto il resto non mi interessa più non che è straordinaria questa chiusa è straordinaria questa chiusa perché ancora sigilla il ritratto di Brunetto che ha consegnato se stesso la sua esistenza la sua funzione culturale intellettuale e storica al tesoro al mio tesoro nel quale io continuo a vivere che mi importa dell'eternità divina che mi concede Dio io continuo a vivere nel mio tesoro le cui pratiche vengono realizzate nel mondo continuo ad essere un insegnamento per chi vive nel tempo felice per chi vive sulla terra nel dolce mondo è una caparbia riaffermazione dei suoi valori temporali nei suoi valori temporali Dante riprende qui addirittura una autodichiarazione fatta da Brunetto stesso nel tesoretto ancora una volta nel tesoretto dove si capisce perché ho interpretato così queste sue parole dice io burnetto latino che vostro in ogni guisa mi son santa divisa a voi mi raccomando come dice Dante poi vi presento e mando questo ricco tesoro che vale argento e oro non dice il mio tesor che vi aprirà le porte della vita celeste e vi renderà perfetti no vale argento vale tantissimo vedrete mettetelo in pratica e vedrete che cosa vale la mia opera in questa io continuo a vivere in questa io e dunque è tutto consegnato al suo passato alla sua vita terrena il resto non gli interessa a quel punto il canto si chiude in modo abbastanza sorprendente contraddittorio con questa ancora una volta con un'immagine di di velocità di recupero del tempo dice poi si girò e cerca di recuperare terreno si mette a correre parve di coloro che corrono a Verona il trappo verde per la campagna e parve di costoro quelli che vince non colui che perde si mise a correre ed era il più veloce di tutti sembrava uno di quei corridori che fanno la corsa campestre di Verona e corre per recuperare che cosa un trappo verde un trappo un nulla a cosa è servita la corsa nel tempo di Brunetto a questo a rientrare nella schiera di quei dannati che sono rimasti legati al tempo umano che non non hanno conquistato realmente qualche cosa qui addirittura c'è tutto un intertesto ovidiano Dante qui recupera una narrazione che fa Ovidio nei fasti nel quinto libro dei fasti dove racconta di Romolo e Remo che fanno una gara di corsa durante la festa dei Lupercalia la festa primaverile dei Lupercalia e stabiliscono un traguardo stabiliscono un traguardo i due fratelli si mettono a correre ma prima in realtà Remo aveva modificato il tracciato della linea del traguardo l'aveva anticipata di modo che alla fine vince lui perché è partito in anticipo non ha rispettato le regole viene definito da Ovidio Remus Male Velox Remus Male Velox cioè veloce perché ha operato il male qui appunto non sto ad articolarvi tutto il discorso che è abbastanza complesso eccetera Dante fa vedere come posso dire questo personaggio che si ha vinto la sua battaglia vive ancora nel suo tesoro ma l'ha fatto truccando i dadi non riconoscendo la vera autorità ha fatto come Remo ha puntato sull'errore dell'uomo che ha creduto che il proprio tempo la propria vita la propria realtà valesse tantissimo invece vale il trappo verde e nella corsa vince chi usa altre regole per cui anche quell'insegnamento morale di costruzione di una civiltà perfettamente equilibrata come dovrebbe essere quella comunale in cui tutte le funzioni sono regolate da leggi eccetera eccetera anche quell'immagine che pure Brunetto aveva dato con la propria opera in realtà viene falsificata viene annullata dall'aver puntato su valori che non sono quelli giusti questo ci sta dicendo appunto Dante da questo con questo suo insegnamento e quindi questa è la vittoria di Brunetto e dice sembra proprio quello che vince non colui che perde certo è stato il più veloce di tutti ma che ha vinto ha perso perché si riunisce a questi peccatori contro la vera natura contro la vera natura del mondo che sarà quella che io vado ad incontrare pur facendo tesoro dell'insegnamento di Brunetto ecco spero di avervi dato un'immagine abbastanza coerente dei tanti significati messi in gioco lasciati in sospensione all'interno di questo canto per definire la personalità di Brunetto maestro di Dante grazie grazie per questa lezione sul quindicesimo canto dell'inferno peccato che in un paio di momenti c'è stato un'interruzione di nel collegamento si è perso qualche parola senza però che si perdesse poi invece in senso generale delle singole parti del discorso che ha fatto ora non so se sono arrivate delle domande o qualcosa no no dall'esterno non è arrivato niente quindi se Roberto vuoi dire qualche cosa di nuovo prima di chiudere i nostri ascoltatori voglio precisare a Marcello ascoltano le lezioni alle ore più impezzate è vero è vero è vero i contatti ma magari non sincronizzati a proposito di tempo ecco ecco è sempre così con questo tipo di trasmissioni sì è vero funziona così è anche molto comodo nel senso che uno non è obbligato al tempo naturale al tempo oggettivo si rientra proprio in questa in questo discorso ma no io volevo semplicemente compiacermi o Marcello perché ci ha condotto ad una lettura del quindicesimo che era ben diversa da quella perlomeno io non ho particolare competenza su Dante a quella più tradizionale che abbiamo imparato che magari chi è del mestiere ha già delubricato insomma già accantonato è molto interessante mettere in rilievo la portata per così dire generale alla quale la colpa insomma il peccato di Blu Netto non viene focalizzato su un atteggiamento specifico di ordine personale di tendenze che oggi diremmo un po' lussurioso mettiamo così ecco sarebbe perfetto per questo tipo di patito ma è contro una natura in quanto ordine complessivo dell'universo ordine complessivo io volevo però leggere un righi e chiedere un chiarimento a Cello che un circuito su questo punto nel vecchio commento e ho sottocchio di Natanino Sapegno viene citato un pezzo del tesoro volgarizzato nel quale si legge a proposito del verso 85 Gloria un uomo valente una seconda vita cioè a dire che dopo la morte sua la nominanza che rimane delle sue buone opere fa parere che egli sia ancora in vita d'accordo dice fa parere cioè inganna perché non è in vita però questo sperma non può essere usato in termini metaforici o allusivi più che specificamente temporali per cui l'eternità dell'uomo è in qualche misura non possibile penso radicalmente cristiano del termine ma illusoriamente forse possibile in quanto assicurata concretamente dall'opera che gli lascia materialistica dell'eternità è verissimo quello che dici è proprio così e anzi la fama che deriva dal bene operare la fama che deriva dal bene operare dà una seconda vita sulla terra sulla terra ma è diciamo è questo sulla terra che conta non dà una seconda vita che poi si può spendere si può utilizzare dopo no nell'aldilà no è tutto circoscritto a questi valori tutto circoscritto e diciamo questa è parola di brunetto no a questo punto ma noi è molto bella molto interessante perché come no come no ci sono io ora pensavo a Cagli quando lui dice in una legge io rimarrò da parte della madre soltanto il fatto che gli ho fatto eccetera insomma cioè quest'idea che il tempo dell'uomo si promiglia tra la sua vita nella materialità che è un deposito di idee di lavoro che esprime di una straordinaria modernità di una straordinaria una modernità straordinaria sì è vero è vero ti ringrazio di questa decisazione o di questo approfondimento e mi ho portato nell'aver letto grazie a te grazie a te al tuo lavoro bellissimo che seguiamo sempre con grande interesse come se ti fanno e ti ascolteranno 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 rispetto a questo luminoso in cui le cose si vedono grazie bene grazie a voi tutti grazie grazie ancora bene ringraziando anche da parte nostra di nuovo il professor Cicuto chiudiamo questo l'incontro di stasera e diamo l'appuntamento per giovedì prossimo 27 e sarà la volta di Duccio Balestracci che ci parlerà dell'immagine di Siena nella commedia grazie 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 grazie